Siamo di fronte come HR ha molte grandi sfide con tanti trend globali che riguardano anche l'Italia che ci impattano e nel tempo qui abbiamo diciamo abbiamo provato in una slide a mettere graficare diciamo un po' quali sono gli oggetti che come funziona HR nei vari contesti organizzativi ci siamo trovati nel tempo a creare molte organizzazioni hanno creato e come incidono sulla tematica dell'attrazione piuttosto che della retention dei talenti ma anche su come promuovono la loro performance dicevamo prima in particolare nell'Italia in Italia c'è un grande tema di sostenibilità del conto economico di produttività per cui molte aziende hanno cominciato a lavorare ho intensificato i loro lavori su tutta la tematica dei valori aziendali del purpose e quindi io ti racconto di me come azienda della mia idea identità corporate non soltanto sono un'azienda di prodotto sono un'azienda di servizio questo è il mio prodotto e questo è il mio servizio ma anche proprio chi sono io come azienda no? Si è lavorato tantissimo sulle politiche di smart working piuttosto che orari di lavoro flessibili no? Per andare incontro a tutta una serie di bisogni nuovi che stanno emergendo e sono sicuramente queste politiche che hanno una grandissima incidenza sulla capacità di attrarre e ritenere i talenti ampliando enormemente la fishing pool da cui andiamo no? a pescare non avendo magari più vincoli geografici così stringenti le politiche di idee versi che dicevamo prima ma anche le politiche di sviluppo delle carriere fino addirittura tematiche sempre nell'ottica diciamo collegata al tema del purpose che esploravamo prima di qual è la mia connessione azienda come il territorio io da qualche parte probabilmente esisto fisicamente come ufficio come siti produttivi qual è il mio impatto sul territorio? come io restituisco alla comunità locale in cui opero parte diciamo del del wealth del benessere che creo per la mia organizzazione se pensiamo diciamo vediamo nella slide successiva se pensiamo a qual è il viaggio che tipicamente fa una persona attraverso l'organizzazione è in realtà un viaggio molto molto simile a quello che fanno diciamo i potenziali consumatori nel mondo del business quando vengono attratti per acquistare un prodotto ed un servizio per cui c'è tutta appunto la tematica dell'attrazione no? con una grande pressione nel trovare candidature che siano di qualità e qualità specificatamente per la mia organizzazione perché non è detto che quello che funziona nella mia azienda e quello che serve nella mia azienda sia esattamente quello che serve in un altro contesto organizzativo che fa un business diverso con delle sfide diverse e in un livello di maturità organizzative di business diverso no? quindi come attrago le candidature che servono a me e perché questo è importante non soltanto perché è un tema di efficacia cioè mi porta a casa esattamente quello che serve ma anche un tema di efficienza se io pubblico un annuncio e ricevo mille candidature ma di quelle mille e ne vanno bene soltanto cinque ho investito un sacco di tempo ed energia anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per chi sta facendo i primi esperimenti nell'andare a trovare quelle cinque ho fatto uno sforzo che ha un costo enorme per partorire un risultato molto piccolo ovviamente la qualità delle candidature accelera i tempi di assunzione no? per cui non hai la classica situazione in cui magari molti di noi si trovano ma vediamone ancora un altro ma vediamone ancora un'altra perché comunque la verità è che quelli che abbiamo già visto non ci convincono del tutto no? e quindi però abbiamo la posizione da coprire quindi siamo combattuti no? fra mi accontento anche se so che quello lì proprio quella lì proprio non va bene come persona oppure continuo diciamo nella ricerca abbassa il cost per hire no? una buona qualità di candidature attratte facilita diciamo l'onboarding no? quando io sono comunque stato trasparente nei confronti dei miei potenziali futuri consumatori che sono i miei futuri employee nel raccontare la mia identità nel raccontare cosa sarà il loro lavoro e così via non non arrivo e vengo scioccato dal fatto di trovare qualcosa che sia totalmente diverso rispetto ad una narrazione che è avvenuta prima no? in una fase diciamo così di 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 ingaggio quando vivo all'interno dell'organizzazione comunque i miei bisogni cambiano e si evolvono le mie aspettative anche cambiano e si evolvono e quindi come l'organizzazione una volta che mi ha portato a bordo continuo a mantenere vivo il mio interesse e la mia voglia di continuare a farne parte no? fino e questo ovviamente ha un grande impatto su indicatori come il tasso di turnover eccetera eccetera fino al momento in cui perché per molti di noi prima o poi verrà ed è anche qualcosa con cui dobbiamo imparare a un certo punto a fare pace aiutare anche i nostri manager a imparare a fare pace con fino al momento in cui qualcuno andrà via e è importante per ogni azienda che quel qualcuno che va via in realtà rappresenti un ambassador e quando un domani verrà chiamato da qualche suo amico o amica perché ha visto un annuncio della nostra organizzazione e vuole applicare gli chiederà ma tu come sei stato o tu come sei stata come hai lavorato lì questa persona risponda che è un buon posto di lavoro no? in cui andare quindi diventi sostanzialmente un ambassador un po' quello che piattaforme come TripAdvisor piuttosto che per stare nel mondo del lavoro Glassdoor stanno in realtà portando anche nel mondo del lavoro no? le referenze, il referra, il passaparola di chi già c'è stato e ha vissuto quell'organizzazione perché nessuno conosce le aziende meglio di chi ci ha vissuto dentro grazie grazie